Funtime Frenzy C'è terribiletto, questo c'è Raffanelli e siamo molto riusciti per la disinterrogation Custom Night La scorsa volta alla fine, che cosa è successo? Cioè, mentre stavo camminando il Powerball Game all'improvviso mi è crashato il computer ho perso il salvataggio disinterrogation mi sono dovuto rifare la Custom Night cioè la Freddy Echo la sono dovuto rifare cioè ho perso i 5 minuti nella mia vita per falla, avevamo perso i 10 per rifalla non sapete voi con quanti jumpscare e basta con sto bonbon la rincherete e vabbè il Funtime Foxy già sta uscendo ma che palle e un dei ragazzi domani uscirà un altro gioco della Custom Night e e forse 2 ma non ne sono proprio sicuro allora l'ossigeno è al 50% 75% il Power è l'una di notte e poi ancora non ho capito se devo considerare l'orario come tipo vabbè prendo esempio uno l'una di notte oppure l'una di mattina ancora non ho capito che cazzo che cazzo bussi tanto mica ti aprono la cosa che ragazzi che non ho ancora capito che si deve usare la tastiera che cazzo ci fa fare allora la fleccia che c'è nendo nendo cazzo dove cazzo sei nendo nendo vieni fuori nendo e chissà poi quando arriveremo alla Custom Night ma che cazzo sto dicendo cioè quando arriveremo alla Golden Freddy Night mi sa che la farò prima in Iasi poi Normal in Art e poi in Veriard perché ci sarà l'inferno che poter mi fai parlare nendo ho sentito che nella Custom Night ci sarà Springtrap ma non ho capito ben dove nel gioco oppure in un minigioco che c'è tipo fa vedere che cosa è successo dopo che il Purple Guy è entrato dentro dentro il come si chiama dentro Springtrap barra Spring Bonnie Mike 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 e il Purple Guy e tra l'altro ragazzi c'è questi Animatronics apposto che uccidere il Purple Guy a me mi sembra piuttosto che uccidano Ennard che c'è noi stiamo comandando Ennard noi Purple Guy Madonna un attimo allora sono le 5 di notte batteria 18% allora mo' che scattano 6 di notte che mi viene il minigame del Purple Guy se mi crasha di nuovo il computer giuro che lo butto alla finestra è inutile che mi bussi tanto non ti apro ragazzi ma io vorrei che abbia sanno cosa cioè allora abbiamo visto tutti quanti che gli Animatronics sono stati distrutti che cazzo li ha rimesti li ha rimontati e poi quando ci uccidono Ennard Ennard muore oppure è vivo cioè tipo uccidono il corpo del Purple Guy Ennard va via dal corpo oppure uccidono Ennard si che sai per favore non crashare 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 come cazzo è brutta per chi cazzo hai la pelle diversa raga lo vedete anche voi la pelle è diversa tu che cazzo vuoi per favore non crashare 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 Grazie a Dio.